La domanda è molto semplice, le persone si rivolgono a noi dicendo come facciamo ad arrivare a fine mese, con un aumento costante di tutto quello che è il costo della vita e con i salari, le pensioni completamente bloccate, tutto aumenta tranne il reddito. Una valanga che travolge le famiglie è costretta a rivolgersi ad associazioni e sindacati per un supporto economico a fronte del caro vita, tra gli aiuti il bando affitti della regione che soltanto nella provincia di Modena quest'anno ha visto oltre 10.000 domande, più del doppio dello scorso anno, più di 50.000 le richieste a livello regionale. Il caro vita a Modena colpisce prima di tutto la casa, rendendo difficile pagare gli affitti, inatteso oltretutto di una stangata che viene da molti vociferata, ovvero quella del caro energia. Quindi a una situazione di crisi dovuta alla difficoltà ad arrivare a pagare i canoni con un aumento generalizzato del costo della vita, c'è anche la preoccupazione da qui a qualche mese di essere affossati da un aumento esponenziale dei costi energetici. Con questi numeri, spiega la CGL, le risorse messe in campo, 40 milioni dall'Emilia Romagna, non riusciranno a soddisfare il 50% della graduatoria. Chi sono le persone che si rivolgono a voi? Abbiamo dalle persone in difficoltà, poiché è disoccupato o inoccupate, a persone che lavorano invece a pieno regime, ma che semplicemente non hanno più stipendi confacenti al tenore della vita attuale. Che cosa chiedete al governo e alle istituzioni? Soprattutto misurgenti, che ci sia un aiuto concreto per le famiglie e comunque per la cittadinanza, tutto per affrontare il problema degli affitti, ma soprattutto andando incontro all'inverno, che ci sia un aiuto concreto e una calmerazione dei costi dell'energia che rischiano davvero di mettere in questo caso in crisi le famiglie e non solo nel brevissimo periodo, ma nel medio-lungo tempo, perché non vediamo all'orizzonte schiarirsi le nuvole, anzi, dei due si era nuvola ancora.